Oggi a Radio Onda Ligure c'è il sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri. Bentornato, ciao. Bentornato, grazie. Allora, so che domani a Pieve intanto c'è un appuntamento molto importante, di quelli da non perdere per gli amanti del teatro e non solo, vero? Domani è la giornata, il 27 di marzo, è la giornata mondiale del teatro e ovviamente noi la festeggiamo nel nostro piccolo teatro, che è Salvini. E quindi è una cosa simbolica, significativa da una parte perché questo teatro ha dato di nuovo un po' lustro anche alla nostra piccola comunità e l'ha fatta conoscere in tante parti d'Italia e del mondo perché vengono tutti dei turisti stranieri. E comunque vogliamo anche dall'altra parte essere vicino alla cultura, ricordarci che il teatro è importante, che non si vive solo di solo economia, ma anche la cultura economia, soprattutto per il nostro turismo. Hai accettato il nostro invito proprio nel periodo pasquale, quindi se vuoi puoi approfittarne. Io assolutamente approfitto di questa occasione per fare i miei migliori auguri di buona Pasqua a tutti i miei cittadini e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie Alessandro. Grazie a voi.